Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Continuiamo a parlare di Dilan Dog e in particolar modo parliamo del Color Fest che è uscito l'8 febbraio 2020. Questa è la prima recensione che faccio sul Color Fest, avevo già fatto una recensione sui colori della paura che era un estratto del Color Fest, ma lì si parlava di una sola storia e quindi è molto più facile fare la recensione di una sola storia, che tra l'altro vi metto qua così ve la andate a recuperare, perché ci tengo molto che la guardiate, poi scoprirete perché mentre la guarderete. Qua invece ci sono ben tre storie, quindi come posso strutturare la recensione di tre intere storie? Fortunatamente questo numero in questo senso mi ha aiutato. Prima di cominciare però vi invito sempre a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di mettere un bel mi piace al video, a questo e anche a tutti gli altri così a caso, a fiducia, di condividere il video con tutte le persone che conoscete e che amano Dylan Dog e soprattutto di commentare il video perché è importantissimo sia per me appunto che ho un riscontro di quello che faccio per capire come gestire i prossimi video che usciranno e anche appunto per creare una piccola community che può sempre crescere di più. Vi ricordo sempre anche che qui sotto in descrizione troverete tanti bei link Amazon dove se acquistate da quei link a me arriva una percentuale che investirò per migliorare sempre di più il canale. Perché iniziare a recensire il Color Fest proprio adesso? Credo sia molto importante recensire una serie non regolare di Dylan Dog proprio adesso perché dal 401 di Dylan Dog, Dylan Dog serie ufficiale è stato rebuttato. Quindi molte persone molto probabilmente possono anche aver abbandonato la testata ufficiale per lanciarsi su altri progetti. Quindi solitamente chi lo fa magari va verso l'old boy però c'è anche il Color Fest che è diciamo la testata più sperimentale di Dylan Dog e troverete sempre tre storie. Non è un mensile, calcolate che il prossimo uscirà a maggio e costa 5,50€. Vale 5,50€? Allora devo dire in questo caso proprio perché volevo vedere che cosa sfornavano il mese in cui molti lettori di Dylan Dog a classico magari si sarebbero guardati in giro alla ricerca di qualcos'altro. In questo caso cavoli non li vale nel senso che ci sono tre fantastiche storie e sono quanto di più sperimentale ci possa essere. Ma credo che un lettore classico di Dylan Dog le possa trovare davvero aberranti nel senso che sono così fuori dal classico che non per forza piacciono. A me per esempio non sono piaciute particolarmente. Direi che l'ultima che è quella che strutturalmente è un po' più classica e a livello di disegno è quella fatta meglio, fatta meglio per il gusto classico del disegno è quella che mi è piaciuta di più. Ma andiamo all'interno di ogni singola storia. La prima storia che si chiama Di Ciao è di Piero Dell'Agnol, totalmente di Piero Dell'Agnol. È stata sceneggiata, il soggetto è suo, la sceneggiatura è sua, i disegni e i colori sono suoi. È una storia particolarissima e su tre storie in questo albo due sono fatte in questo modo, ovvero i dialoghi sono al minimo, nel primo numero sono risicatissimi, nel secondo numero, per ragioni che poi vedremo, sono assenti totalmente. Si può dire che sia, se volessimo paragonarlo al fumetto americano, questi due numeri di Dylan Dog è come se facessero parte della collana Nafsed, molto famosa qualche anno fa in America, lanciata da Stan Lee. Cioè una collana dove appunto si era detto abbastanza e solo i disegni conducevano la narrazione. Ora, è una cosa che a me piace un sacco, il Nafsed, però si è dosato. Su tre storie, averne due dove non ci sono praticamente i dialoghi, francamente mi ha un pochino pesato. Avrei preferito mettere queste due storie spalmate su due color fest diverse. Poi riconosco che probabilmente l'hanno fatto anche per un discorso di impaginazione, ma stica... cioè voglio dire, proprio a livello di fruiribilità, avere un tomo di cento pagine di fumetto, che ho pagato 5,50 euro, che ho mangiato in mezz'ora, cioè non l'ho gradito tantissimo. Comunque, tornando a Di Ciao. Di Ciao fondamentalmente è una storia molto onirica. Dylan Dog è dentro un sogno, forse per questo che i colori sono a tinte acquarello, e non tutte le tavole sono complete di colori, cioè ci sono proprio delle zone lasciate volutamente bianche, perché comunque è quasi ermetica come storia, cioè come il concetto che conta non sto nemmeno a colorarti tutta la tavola e quello che coloro te lo coloro con l'acquarello. Però il risultato finale a me non è arrivato molto, mi dispiace. Invece ho gradito le citazioni, c'è una enorme citazione a Pulp Fiction, che vi metto il film in Blu-ray qua nel link Amazon, così se non l'avete visto andatevi a vedere Pulp Fiction di Quentin Tarantino. La citazione sono i due innamorati alla tavola calda che fanno una rapina, pare che ci sia anche un energumeno che potrebbe vagamente ricordare un Bruce Willis che si frappone tra Dylan Dogg e la bartender, con cui Dylan Dogg ci sta provando, e un'ultima citazione, pare che ci sia un John Travolta, il John Travolta di Pulp Fiction, che esce dal cesso, così come faceva in Pulp Fiction, e si apre uno scontro a fuoco in cui questo nostro John Travolta muore sul cesso, così come è accaduto in Pulp Fiction. Scusate, vi ho spoilerato Pulp Fiction, ma tranquilli, c'è tanto altro in Pulp Fiction che dovete vedere. Poi si passa a un'altra sequenza onirica ambientata sott'acqua, questa sequenza onirica ambientata sott'acqua finisce con Dylan che fuoriesce dalla tazza del cesso, citazione a Trainspotting, invece. Sì, carine le citazioni, però finisce con un semplicemente, semplicemente con il risveglio di questa donna, che all'interno dei sogni di Dylan Dogg, si vede che poi alla fine è questa donna che sta sognando, e si risveglia dicendo Ehi, ciao, caffè? Cioè, proprio col buongiornissimo si risveglia, e questo mi ha fatto proprio cadere le sfere del drago. Sto cercando di tenere un linguaggio adatto agli standard di YouTube, in modo che non mi strike il canale. Mi è piaciuta già molto di più la seconda storia, Welcome to the Jungle, Welcome to the Jungle! Che però è scritta da un paio di sceneggiatori, quindi non è opera omnia di... non è stata fatta da una singola persona, è stata sceneggiata da Isaac Freid... Freidi? Mi scuso per la pronuncia, e Marco Nucci, mi scuso per la pronuncia, e i disegni invece, i disegni e la colorazione sono di Young, non mi scuso per la pronuncia, perché spero di averlo pronunciato bene in questo caso. Allora, si apre con una splash page in una Londra totalmente invasa dalla natura, dalla natura selvaggia, con quella che può essere una iena di colore verde, e che va ad attaccare una puzzola. La puzzola sta dormendo su dei giornali che ci fanno capire cos'è successo. C'è stato un virus, anche qua, così neanche a farlo apposta, non credo che l'abbiano voluto far uscire in questo periodo di allarmismo, di coronavirus, volutamente, ma tant'è che abbiamo tra le mani un numero che è uscito a febbraio in cui si parla di un virus, in questo caso il virus ha trasformato tutte le persone di Londra in animali in 24 ore. Anche questa è comunque una citazione a un romanzo, se non sbaglio, di Lovecraft. Ci hanno fatto anche una puntata di Simpsons, dato che probabilmente si, magari io ricordo di più la puntata di Simpsons, però so che tratta, mi sembra, da un romanzo, non so se di Lovecraft, dove appunto c'era questo dottore che sperimentava questi ibridi umano-animali, e qua vediamo appunto, scopriamo che gli animali quindi sono quelli che prima erano gli abitanti di Londra, e iniziamo anche a riconoscere gli animali come i nostri protagonisti. Si vede chiaramente che la puzzola è graucio, da lì io ho supposto che questa iena tutta verde possa essere Manacerace, però non lo so, perché Manacerace agisce con il buio, però questo verde così. Viene attaccata, viene difesa da questo lupo, nero e rosso, che è chiaramente Dylan Dogg, a un certo punto gli danno manforte anche altri comprimari, vediamo un orso che è Block, vediamo uno struzzo che è la Madame Trenkowski, e poi vediamo una volpe che è il professor Wells, non quello di Flash, è quello di Dylan Dogg, è quello che stranamente difende Graucio in questo numero. Tra l'altro c'è anche una scimmietta che è sicuramente un comprimario di Dylan Dogg, ma non riesco a capire a chi faccia riferimento. Se voi lo avete capito, lo avete intuito, aiutatemi, perché non ci sto dormendo la notte. Ci sono dei disegni anche qui molto sperimentali che però mi piacciono molto di più. So che la storia di prima non è mancanza di qualità, è proprio una scelta stilistica dell'autore di disegnare ad acquarello e fare così, ma a me non è arrivata. Qua invece mi è arrivata molto, mi piace molto questa Londra tutta notturna con tutti questi puntini stellati e mi è piaciuto un sacco. Sono tutte tavole che tranquillamente io appenderei al muro e ci farei dei quadretti. C'è uno scontro finale appunto di questi questo iena che va a richiamare altri animali cattivi e finisce in un tipico stile di Landoga che non sto a dirvi anche questo perché vi ho già detto troppo. Si passa alla terza storia la terza storia anche anch'essa è opera di una sola persona che ha fatto soggetto sceneggiatura disegni colorazione che è Alessandro Baggi mi scuso anche con lui per la pronuncia così a fiducia si apre con una mezza splash page mi piace questo uscire dalla griglia è fantastico si usa poco nelle storie italiane quando succede a me piace c'è un sacco ciò nonostante c'è una griglia abbastanza impostata all'inizio finché Dylan non va diciamo nel nel sogno nell'incubo dove va alla ricerca di un di un suo vecchio caso si parla di nuovo del passato di Dylan Dog e quando si parla del passato di Dylan Dog si sa che è una carta vincente quindi qua Dylan si sta struggendo per un vecchio caso che non è mai riuscito a risolvere quando era in polizia caso di una donna scomparsa quindi non pizza e fichi fondamentalmente e si fa aiutare appunto su suggerimento anzi no gli arriva una lettera a casa e decide di dato che ormai lui è l'indacatore dell'incubo quindi ha a che fare con cose che escono dalla sfera dell'umana comprensione decide appunto di farsi aiutare dall'incubo per risolvere questo vecchio caso e quando appunto va all'indirizzo che è scritto sulla lettera che gli è arrivata incontra Hamlin che è il proprietario del safara e qua già la griglia inizia un po' a distorcersi ci sono molte più splash page si esce molto di più dalla griglia proprio per dare l'idea di una dimensione diversa da quella iniziale almeno questo è quello che ho percepito io Hamlin sta aspettando Dylan non al safara ma in quella che sembra una dimora abbastanza grande in quello che può essere una citazione artistica a Salvador Dalì ci sono i granchi ci sono gli orologi questo qua è mezzo sciolto ci sono dei pesci sembra davvero un omaggio ai quadri di Salvador Dalì questo pesce non è solamente di sfondo ma è un pesce parlante che fluttua nell'aria che parla con Dylan Dog a me ha ricordato moltissimo un personaggio che conosceranno probabilmente in tre persone in Italia forse che è il pesce parlante Betta George che è un pesce che è nella serie fumettistica di Angel ambientata dopo la quinta stagione di Angel dopo la quinta stagione di Angel si è chiusa con un cliffhanger c'è stata la sesta stagione ufficiale fumettistica chiamata Angel After the Fall dopo la caduta in questa serie a fumetti che purtroppo in Italia non è mai stata conclusa quindi io ce l'ho in completa purtroppo c'è un personaggio che è questo pesce che si chiama Betta George che è un pesce telepatico che flutta nell'aria e appunto parla con uno dei personaggi principali che è il personaggio di Charles Gunn perdonate la mia ignoranza non so se questa citazione a Angel è voluta oppure entrambi i fumetti citano qualcosa di più alto che io non conosco fatemelo sapere nei commenti se così fosse io ho trovato questa assonanza ma appunto è una serie davvero poco conosciuta in Italia spero di trovare in questo video altri fan di Angel come me al punto tale da leggere anche i fumetti di Angel infine ci tenevo a dire dato che ho parlato di tutti gli autori che la copertina è stata disegnata da Gloria Pizzilli e mi è piaciuta molto è il classico caso in cui la copertina mi ha invogliato a prendere il Colorfest io non lo prendo sempre il Colorfest lo prendo quando sono ispirato da quelle che possono essere le vostre recensioni che leggo sulla pagina Facebook di Dilan Dog quando dite ah sì questo mese il Colorfest è fantastico allora lo prendo o appunto se in questo caso mi ha ispirato la copertina oltre al fatto che appunto volevo vedere cosa avrebbero pubblicato nel 2020 anno in cui Dilan Dog è stato ributtato nella serie regolare non credo sia all'altezza di lasciare la serie regolare per affiondarsi su questo numero però vabbè comunque sono felice di averlo letto l'unico appunto che mi sento di fare appunto è di non che hanno messo due storie dove non ci sono praticamente dialoghi dove tutto scorre solo con le immagini su tre storie totali avrei preferito una storia senza dialoghi e due storie classiche e l'altra storia metterla in un altro Colorfest però al di là di questo è comunque gradevole diciamo non è una lettura che vi consiglio di fare in un lungo viaggio in treno perché ve lo mangiate in pochi minuti proprio per questo motivo qua bene con questo è tutto io vi ricordo che questa settimana continuerò a fare video su Dylan Dog parlerò del Morbo M dato che così siamo in tema coronavirus che è un fumetto abbastanza recente appartenente al ciclo della meteora che non recensivo perché non recensisco normalmente Dylan Dog in modo regolare però se a voi piace inizierò a farlo a questo punto riprendendo anche vecchi numeri appunto parto da Morbo M perché è un po' l'argomento del giorno il diffondersi di un'epidemia l'allarmismo che c'è intorno a questo diffondersi dell'epidemia e così via quindi vorrei stare un attimino sul pezzo ma senza sciacallare come fanno tutti sull'argomento del giorno ma cercando di mettere un po' di nerditudine anche all'argomento che è sulla bocca di tutti purtroppo con questo è veramente tutto io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video grazie a tutti